bianca balti continua a combattere contro il tumore che l'ha colpita ma al suo fianco c'è un'amica speciale chi è bianca balti aggiorna spesso i suoi followers circa la battaglia contro il tumore che sta combattendo e nelle ultime ore è apparsa sui social una foto con un'amica speciale stiamo parlando di chiara ferragni che ha posato insieme alla top model in uno scatto condiviso fra le storie di instagram le due hanno trascorso il pomeriggio insieme fra chiacchiere e caffè ai tavolini di un elegante bar molti non sanno che l'influencer di cremona e bianca balti sono amiche di vecchia data e proprio nelle ultime ore si sono incontrate a milano bianca balti combatte contro il tumore bianca balti è in italia e continua la sua battaglia contro il tumore ovarico per lei è un periodo complicato fatto di chemioterapia e accortezze per concludere il percorso il prima possibile vicino a lei c'è chiara ferragni un'amica speciale che la definisce una ragazza meravigliosa come riporta lo scatto condiviso su instagram come è noto anche chiara ha passato un periodo tutt'altro che semplice a partire dallo scandalo che ha travolto lei e l'azienda dolciaria balocco fino al divorzio professionale dal suo manager fabio maria damato e ancora quello reale dall'ex marito fedez con il quale ultimerà le carte di separazione nei prossimi mesi immaginiamo dunque che le due donne abbiano avuto molto di cui parlare in questa sessione di confidenze che si sono concesse nelle ultime ore soprattutto per ciò che riguarda le nuove love story di entrambe di seguito le foto condivise sui social come sta la modella come abbiamo detto bianca balti oggi combatte contro un tumore ovarico diagnosticato già al terzo stadio lo scorso settembre nel 2022 la modella si era sottoposta a una mastectomia bilaterale preventiva ovvero la sportazione di entrambi i seni per contrastare l'ipotesi di cancro poiché portatrice della mutazione brca che aumenta il rischio di sviluppare malattia del genere dopo un delicato intervento per il tumore che sta affrontando attualmente bianca ha iniziato il lungo percorso di cure che la porterà lontano da questa malattia insieme a lei ci sono le figlie il nuovo fidanzato alessandro cutrera e a quanto pare anche chiara ferragni